Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar, sono Cristina Iraci, Promos Italia e ci siamo collegati appunto al webinar, al quinto appuntamento del ciclo del miglio mancante, mercato internazionale e assicurazione. Bene, ovviamente come ogni webinar vi faccio una piccola presentazione di chi siamo e che cosa facciamo, anche se molti di voi ci conoscono ormai da tante puntate. Diciamo così, Promos Italia è l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, partecipata dal sistema camerale, da Union Camere, Union Camere Lombardia, Union Camere Emilia Romagna, Camere di Commercio di Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano, Monzebrianza, Lodi, Modena, Perugia, Terni, Pisa, Pordenone, Udine, Ravenna e Salerno. Cristina, scusa, non vediamo le slide di presentazione. Ah, ok, grazie, allora vedo cosa succede, scusate, allora, non avevo rimesso, così dovrebbe funzionare. Sì, grazie. Ok, ecco, scusatemi, vabbè, la voce me l'avete sentita, quindi non sto a ripetere. Cosa offriamo? Noi proponiamo una parte di formazione e primo orientamento per l'export, business match in ricerca di controparti internazionali e le soluzioni invece per il digital export. Ecco la prima parte, know-how, che è appunto i servizi di formazione e di primo orientamento per l'internazionalizzazione, di cui questo webinar e seminario e i vari seminari fanno parte. Quindi proponiamo una programmazione molto nutrita di incontri, di webinar, in questo caso. Abbiamo una serie di pareri degli esperti e di approfondimenti, più avanti vedremo pian pianino di cosa si tratta. Aiutiamo le imprese a incontrare controparti estere, lo facciamo con i servizi specialistici di business matching attraverso le ricerche partner, incontri d'affari e con il progetto in buyer, che sono appunto incontri d'affari online con buyer esteri e operatori per settori economici specifici, di cui abbiamo anche qui una nutrita programmazione. E poi abbiamo tutta la parte di supporto all'export digitale, cosiddetto GoDigital, sono tutti servizi per lo sviluppo digitale attraverso la piattaforma DigiTexport e una serie di eventi e webinar dedicati. DigiTexport, una piccola panoramica sulla parte appunto digitale. DigiTexport è un progetto di Promositalia ed è una piattaforma di cui vedete DigiTexport.it, si pone proprio come riferimento per le imprese su tutti i temi dell'export digitale, attraverso contenuti e approfondimenti, quindi articoli, servizi di assistenza di primo livello di cui adesso vi vado a parlare, webinar e seminari e altri servizi appunto di supporto. Il DigiTexport appunto fa una serie di, propone una serie di consulenze gratuite personalizzate attraverso la sua piattaforma. Uno dei primi servizi che l'azienda e le piccole e medie imprese possono fare è il DigiTest, che è un assessment per capire la propensione all'export digitale. È un piccolo percorso guidato in cui si può appunto andare a capire e a introdurre un percorso graduale di accompagnamento delle aziende sui temi del DigiTexport. Abbiamo invece poi anche il DigiTexpert, che è un appuntamento gratuito con esperti del settore digitale. Anche qui è un servizio a disposizione delle piccole e medie imprese. Selezionate all'interno del servizio la tematica, consultate il profilo e l'agenda dell'esperto che vi può interessare e fissate un appuntamento che potrà poi essere realizzato in videochiamata. Ci si iscrive sempre tramite la piattaforma e trovate poi tutti i percorso, vi guida proprio nel percorso di accesso ai nostri servizi. Le tematiche a cui potete attingere sono queste, digital business plan, digital marketing, e-commerce, marketplace, logistica e pagamenti per l'e-commerce, proprietà interettuale, protezione di marchio, privacy e GDPR. Ci sono una serie di esperti che potete andare a selezionare in base alle vostre esigenze, c'è la loro agenda e quindi prendete appuntamento. Segnalo per le aziende della provincia di Lodi, Monza, Brianza, Milano, questo evento, il 14 ottobre, che è un Digitexpert Day, è un'occasione specifica per iniziare a essere aggiornati su tutta la tematica digital e digital export. Il Digitest è, come ben detto, un tool online, sempre gratuito, per valutare la propria propensione all'export digitale. In pochi minuti potete scaricarvi e farvi e poi scaricarvi l'analisi della presenza online. Abbiamo ancora un altro servizio interessante che è l'InfoExport, che è un portale di esperti, in questo caso, di tematiche relative alla contrattualistica internazionale, pagamenti, trasporti, dogane, intrastat, fiscalità internazionale, marketing, tutti temi sempre scottanti che hanno bisogno di essere ogni tanto interpellati da parte delle aziende. Anche qui c'è un percorso poi di come porre il quesito, ponete la domanda e in questo caso la risposta avverrà in via scritta. Abbiamo, sempre poi nel tema del supercorsi di formazione, il Nibi, la Business School sull'internazionalizzazione di Promos Italia. Potete anche vedere, ci sono sia andare sul sito e trovare corsi sia a pagamento, ma anche corsi gratuiti che vengono offerti. Ancora, nel quadro del progetto 6, c'è ancora attivo e a disposizione delle aziende l'Helpdesk per l'emergenza Covid, a questo indirizzo sostegnoexport.t oppure la mail che vedete nella slide. Ecco qua i nostri prossimi webinar, abbiamo ripreso in grande, abbiamo una programmazione autunnale molto ricca, sul nostro sito, al link che vedete, trovate tutti gli argomenti e tutte le tematiche. Bene, veniamo a noi, al quinto appuntamento del Miglio Mancante, oggi si parla di mercato internazionale e assicurazione. Abbiamo con noi, e chiedo poi pian pianino di farsi vedere, Massimiliano Giglio di Cisco e Silvio Ferrando, autorità portuale, che ci hanno accompagnato fin dal primo giorno in questo percorso. E oggi, come invece sul tema tecnico delle assicurazioni e dell'assicurazione crediti, abbiamo appunto il dottor Stefano Mangia di SIAT e il dottor Luca Labanca di Sace. Chiedo a questo punto, dunque, il percorso di oggi ci vedrà a trattare, appunto, introdurre l'argomento Massimiliano Giglio e Silvio Ferrando, riprendiamo un po' da dove eravamo rimasti, per, facendo un riepilogo degli incontri precedenti, e introdurre l'argomento attuale, poi lasceremo la parola ai nostri due esperti. Concluderemo, come al solito, intorno alle 17 con le domande, quindi vi ricordo che c'è la possibilità di mandare le domande, risponderemo poi alla fine con i nostri relatori. Infine, nelle slide troverete, trovate appunto i nostri contatti, i nostri uffici, io sono Cristina Iraci della sede di Genova, e vi ricordo il prossimo appuntamento del Miglio Mancante, che sarà il 22 ottobre, in cui parleremo di tecnologie digitale e spedizione merce. Bene, chiedo ai nostri relatori di manifestarsi, di accendere le webcam e l'audio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornati, siamo appunto al nostro quinto appuntamento. Lascio la parola subito a Massimiliano Giglio e a Silvio Ferrando, che ci introducono al tema di oggi e ci fanno un punto della situazione pre-ferie estive. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qua dopo la pausa estiva. Oggi l'intervento mio e del collega Ferrando servirà un attimo a riprendere quello che è l'argomento, quello che abbiamo iniziato a fine 2020, e il ciclo del Miglio Mancante, quindi gli ultimi quattro appuntamenti dove abbiamo un pochino spiegato l'importanza della logistica alle PMI, quindi l'importanza di conoscere e di controllare la logistica a fronte di un dato abbastanza preoccupante, che è quello del numero di container che partono, lasciano l'Italia per paesi stranieri con vendite francofabbrica. Soprattutto in questo momento, dove c'è e dove percepirete, immagino, una grande confusione, un grande cambiamento che è iniziato con la pandemia sul traffico dei container, sia dal punto di vista economico, quindi l'impennata dei noli, noli che da 3.000 euro sono diventati nel giro di pochi mesi 10, 12, 13 mila euro, sia dal punto di vista proprio del controllo, controllo del servizio inteso come valore aggiunto per la propria azienda. Ecco, io durante i mesi estivi, durante le ultime settimane, ho parlato con le aziende, c'è grossa preoccupazione innanzitutto per l'incapacità di previsione del mercato del trasporto, cioè un'azienda che a malapena conosceva la logistica containerizzata, si è vista chiedere dal proprio cliente finale un costo di trasporto triplicato, se non quadruplicato, sta impattando in maniera negativa proprio anche sulle linee di produzione, perché i prodotti messi sul panorama del mercato internazionale rischiano, se il valore unitario magari è basso, di non essere più competitivi a fronte di un olo così alto. Qui nasce la necessità di controllo e di conoscenza della logistica, quindi capire se quello che state pagando è un prezzo reale, che peso ha e come riorganizzare la propria azienda dal punto di vista logistico, se ce n'è una necessità, ovviamente. Scusa Massimiliano, volevo dirti che si vede il tuo schermo e non le tue slide. No, no, non sono ancora partito, adesso le faccio partire subito, siamo ancora in atmosfera feriale, indulgiamo qualche minuto perché questo tipo di considerazioni che faceva Massimiliano hanno un riflesso ormai anche aperto, evidente nelle statistiche portuali, nascosti dentro i dati ci sono dei segnali preoccupanti da governare ed è un momento dove, più ancora del momento dove eravamo partiti un anno fa, ti senti fare la classica domanda, da che parte vado? Siete proprio sicuri che debba impegnarmi in un maggior controllo della logistica? Perché è chiaro che di fronte alla incapacità di governare processi come quello che hanno portato adesso, la sparizione di fatti o la difficilissima reperività dell'equipmento, dei costi di trasporto fuori controllo? Ci sono sostanzialmente, diciamo, due forme legittime di risposta. Chi ha paura e si concentra ancora di più sul prodotto e ancora di più è spinto a vendere francofabbrica e chi invece tenta di governare la complessità? Quindi siamo in mezzo al guado, siamo nella tempesta perfetta, vi dico già che abbiamo acquisito anche noi diverse analisi da parte di notissime società di revisione, di analisti internazionali dello shipping e durerà ancora almeno sei mesi questa situazione, poi dovrebbe stabilizzarsi con un deciso e abbastanza veloce rientro dei costi, ma con una discesa che è valutata dell'ordine i più ottimisti danno un 30-40%, quindi importante ma siamo sempre il 50% in più dei prezzi di prima, quindi attenzione che la new normality sarà comunque un costo del trasporto che non sarà più i 14.000 euro da Shanghai a Genova o a Rotterdam, ma facilmente si stabilizzerà sul lungo periodo sui 5-6.000 euro, quindi modificazioni strutturali, c'è anche un problema che sta emergendo di normazione, di suite normativa soprattutto europea, molto pesante per gli armatori sulla parte di sostenibilità, sulla parte green dello shipping che sta spingendo molti armatori e probabilmente molti amatori che tra di loro si parlano a mantenere un flusso di cassa artificialmente alto per i prossimi anni anche perché avranno bisogno di notevole quantità di denaro per cambiare di nuovo una flotta che pur ormai essendo abbastanza giovane finirà per essere sostanzialmente vecchia per il tipo di suite normativa che incontrerà soprattutto nei porti europei in termini di impatto ambientale. Si va verso una forte impostazione tipo quella della Marpol, cioè sui rifiuti navali, quindi forte premialità verso navi molto avanzate tecnologicamente a basso impatto e una forte pressione anche in termini di tassazione per entrare nei porti a fronte dei navi anche relativamente nuove cinque sette anni con però diciamo metodi di alimentazione dei motori, motori termici quindi metodi di alimentazione sostanzialmente considerati normali oggi quindi però desueti a brevissimo in base alle regolamentazioni dell'Unione Europea, gli armatori si sentono oggettivamente in mezzo al guado, la risposta da parte loro non può altro che essere quella di diciamo creare delle condizioni di sostenibilità del loro business sul livello di massimo di cash flow ragionevolmente attivabile per finanziarsi nuove costruzioni. Vedremo navi che vanno vendute scrap alla demolizione con cinque sette anni di servizio quindi abituiamoci a un mondo che nel giro di dieci quindici anni cambierà completamente le tecnologie di riferimento eh certo qualcuno dice fondamentalmente a spese del consumo dei consumatori di mezzo di tutto il mondo. Eh certamente. E questo è un aspetto che dobbiamo tenere presente e dobbiamo quindi entrare ancora di più nella formazione dei costi e la giornata di oggi è un po' per quanto mi riguarda l'ennesimo capitolo eh estremamente legato agli altri perché e non c'è dubbio che in un momento di grande eh confusione mh e con trend che sembrano eh confliggenti ma che vi ripeto si unificheranno verso la new normality di prezzi piuttosto elevati ebbene allora è fondamentale securitizzare il proprio business e quindi abbiamo strutturato l'intervento di oggi non in maniera diciamo eh prosaica universitaria ma con il solito taglio operativo sui due grandi capitoli da una parte l'assicurazione della merce dall'altra parte l'assicurazione del credito perché nel momento in cui si include il prodotto tutta una serie di servizi è fondamentale conoscere come può essere ridotto il rischio di rimanere in braghe di tela e quindi di fronteggiare problemi di eh pagamenti internazionali delle merci. Mi io mi fermerei poi se vuoi andare avanti Massimiliano però sostanzialmente è fondamentale capire che questo e il prossimo seminario sulla digitalizzazione offriranno un paradigma veramente completo insieme con i seminari che ci hanno preceduto e ci avviamo anche lo diciamo facciamo un minimo di promozione commerciale non ce n'è bisogno sarà fondamentale eh il giorno 4 di ottobre vi invitiamo tutti a collegarvi anche attraverso adesso adesso ne parlo Silvio e facevo un breve vocenno per le persone che magari sono eh hanno iniziato a seguire il il programma di Milio Mancante magari non so non subito dal primo evento eh come diceva come dicevi giustamente te sei stato siamo partiti spiegando qual era l'importanza del controllo o quantomeno della conoscenza della logistica che sta dietro le proprie merci quindi sia dal punto di vista operativo del trasporto sia per quanto riguarda le dinamiche doganali abbiamo cercato di spiegare quelle che che sono le dinamiche operative quindi eh dinamiche che possono essere fatti o tramite uno spedizioniere spesso e volentieri nel caso di una PMI ma anche eh le facilitazioni che ci sono state grazie alla digitalizzazione quindi l'apertura di booking in autonomia attraverso un carrier marittimo in maniera diretta abbiamo un po' visto eh cos'è l'equipment quindi cos'è il container a conoscerlo meglio quali sono eh diciamo i concetti tra tra carrier e merchant knowledge e un pochino quali sono i rapporti con l'autotrasportatore quindi l'autotrasportatore il eh il pieno carico o il carico diciamo spezzato attraverso l'utilizzo di di interporti per ultimo eh nell'ultimo seminario che abbiamo fatto a luglio è stato un tipo di intervento prettamente sulla documentazione che l'esportatore utilizza e produce in relazione poi a quelle che sono le dinamiche della dogana come anticipavi te eh l'evento del 4 ottobre insieme a quello del 22 eh insieme ovviamente a quello di oggi sanciranno di fatto tre punti fondamentali tra aspetti fondamentali per le aziende che fanno che operano nel commercio internazionale in particolar modo il prossimo eh quello del 4 eh sarà un evento incentrato su la caricazione della merce cioè come si carica la merce qual è il significato di sicurezza della caricazione attraverso eh la conoscenza del C2 code un codice internazionale che CISCO quest'anno ha tradotto in lingua italiana e verrà presentato eh attraverso eh il canale Telenord interfacciato ovviamente con il programma eh Promos eh con tutta una serie di interventi istituzionali ma non solo anche assolutamente tecnici quindi questo è un argomento di caricazione precisa che si parla di caricazione a tutto tondo quindi caricazione sul camion cosa che tutte le imprese dovrebbero conoscere caricazione nendo quindi rizzaggio eh fissazione della merce dentro un contenitore e quant'altro quindi casa mobile sicurezza dentro della merce dei lavoratori a tutto tondo ecco il codice C2 come come vedrete dal programma dalle persone che interverranno il l'argomento è assolutamente attuale e assolutamente eh diciamo di primo livello perché si accosta insieme a quello del tema del green quindi quello della sicurezza che sono saranno i due capisaldi eh che faranno a cui faranno capo la logistica dei prossimi anni quindi sicurezza e trasporto green quindi eh sulle slide che poi vi arriveranno c'è il canale di registrazione ci sarà un doppio canale di registrazione quello di Promos vi arriverà oppure sul sito di Cisco eh è completamente indifferente ci sarà una diretta streaming non sarà un evento eh simile a quello di oggi perché sarà una trasmissione televisiva e spero sinceramente che l'argomento sia di di vostro interesse interesse e susciti e quantomeno una curiosità nell'informarsi eh su riguardo al tema. Dobbiamo dire che è un'anteprima a livello assoluto nazionale perché ci sono pochissime traduzioni autorizzate del C2 Code eh diciamo siamo stati awarded come si dice in inglese della traduzione italiana dagli organismi internazionali che presidiano il C2 Code questo è anche motivo di soddisfazione che vuol dire che malgrado tutto la logistica italiana è percepita come importante perché il C2 Code nasce in seno a un gruppo di lavoro mondiale fatto da caricatori armatori speditori quindi ehm tutte le componenti del trasporto e esistono sei sette traduzioni autorizzate tra cui appunto quella italiana che avremo cura di illustrare sarà poi disponibile anche il testo del C2 Code quindi eh accostatevi con con entusiasmo a questa materia perché ripeto è un è un una questione critica che ci riporta al tema poi di oggi perché ovviamente una caricazione della merce fatta a regola d'arte secondo le normative C2 bene le normative le indicazioni C2 hanno poi un riflesso ovviamente positivo anche eh una volta verificata da parte dell'assicuratore. Ecco l'obiettivo finale è dotare le aziende che caricano o scaricano il container di una guida e di una checklist su quali sono i controlli e le cose da sapere nel momento in cui eh caricate la vostra merce all'interno di un'unità intermodale ecco queste quindi è proprio è una guida che vi serve per il controllo e l'ottimizzazione del processo ecco questo in in due parole detto in due parole ora io direi che potremmo passare la parola a a dottor a dottor mangia rifano mangia sì eh della Siat che tra l'altro sono sponsor dell'evento del 4 di ottobre non a caso sono sponsor ben graditi eh bene bene allora passo la parola gli faccio condividere lo schermo buongiorno a tutti eh grazie per l'invito a Promotitalia intanto e Cisco eh cercherò in questo cercherò in questo in questo retta eh 45 minuti perlomeno eh di rendere disponibili un po' al al mondo che eh evidentemente non mastica eh assicurazioni dei trasporti giornalmente e quindi cercherò di mh di stimolare l'interesse un po' di tutti eh lo spero almeno eh e spero anche che arrivino delle domande corpose al termine della presentazione perché questo vuol dire che suscita interesse l'argomento ehm oggi di cosa parliamo sostanzialmente eh il l'intervento è mira ehm a cercare di eh estrarre da quello che è il mondo assicurativo eh di cui faccio parte eh lo ricordo io sono eh appartengo alla Siat Assicurazioni gruppo Unipol leader nei rami danni in Italia prima assicurazione nei rami danni in Italia eh Siat lo sappiamo per chi non lo sapesse eh leader sul mercato sul settore nel nel ramo trasporti ehm parleremo quindi di tutte quelle coperture eh che solitamente vengono tralasciate sul mercato ehm o dai più semplicemente perché non probabilmente non c'è una cultura in tal senso e quindi molto spesso questo determina una situazione ehm non proprio gradevole nel momento in cui dovesse esserci un sinistro durante il trasporto della merce ehm quindi parleremo sostanzialmente di chi sono eh delle delle polizze danni in generale delle polizze legate al mondo industria in particolar modo quindi tutto ciò che riguarda le piccole e medie imprese tutto ciò che è diretto alle piccole e medie imprese o anche alle grandi aziende eh parleremo introdurremo il discorso eh parlando dei degli aspetti giuridici eh per poi passare a quelle che sono le attività legate al mondo dei trasporti e quindi le le controparti che si eh ritrovano poi nel 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 momento in cui si ehm si può diciamo si termina si va a finalizzare una contravendita internazionale nella maggior parte dei casi sappiamo che intervengono eh diversi soggetti ecco analizzeremo tutti questi aspetti in modo tale da poter capire quali sono le parti coinvolte e quali sono eh le responsabilità di ognuna di queste parti coinvolte per poi passare ovviamente a a quelle che effettivamente potrebbero essere delle soluzioni che già sono presenti sul mercato da tanti anni ma che comunque molto spesso non si conoscono abbiamo detto eh quindi parleremo anche di queste criticità e in modo le modalità con cui poterle diciamo superare eh proprio in virtù del fatto che eh come si diceva il negli ultimi anni il mondo assicurativo in particolare ha fatto dei passi mh dei grandi passi in avanti in particolare è il nostro gruppo sostanzialmente si è focalizzato su quelle che sono le mh tutta poi una una serie di informatizzazione dei dei prodotti in modo tale da rendere più fruibili eh quelle che sono sostanzialmente le coperture disponibili per per le aziende. Quindi cominciando il nostro eh percorso eh dividerei sostanzialmente quelle che sono le coperture trasporti in in due grandi fasce eh una destinate alle aziende che sono eh che 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 producono che vendono che rivendono che trasformano prodotto quindi tutte le aziende che hanno un interesse in quanto proprietari delle merci e tutte e sono sostanzialmente gli utenti del del diciamo del del trasporto eh mentre tutta un'altra fascia che non interessa a noi in questa sede che potrebbe riguardare tutti gli attori coinvolti nel processo del del trasporto e quindi spedizionieri vettori piuttosto che eh operatori multimodali operatori marittimi eccetera eccetera oggi noi ci focalizzeremo su quelle che mh sono le eh le aziende sostanzialmente che comprano vendono eh producono eh oppure hanno un interesse specifico in qualità di eh terzisti piuttosto che di eh con diciamo aziende che possono effettuare il conto lavorazione tutte queste aziende sono sostanzialmente fanno parte degli utenti del trasporto e quindi sono eh devono teoricamente in linea teorica dovrebbero eh acquisire eh diciamo preoccuparsi della copertura assicurativa delle merci ehm sostanzialmente che esigenze hanno queste aziende o le aziende piccole e medie imprese in genere tutte le aziende produttrici ehm o distributrici di prodotto ha il 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 primo obiettivo che hanno eh so è è quello di tutelarsi contro i danni materiali e diretti eh che le merci possono subire durante il trasporto che vuol dire vuol dire che eh se una merce eh nello specifico deve essere trasportata a cura del mittente o a cura del destinatario eh ma anche incaricando un vettore dal punto A al punto B sostanzialmente l'azienda mh che spedisce la merce in linea teorica dovrebbe occuparsi o il compratore o il venditore dovrebbe occuparsi di garantire queste queste merci durante il trasporto. Le coperture danni sostanzialmente che interessano tutti tutto il mondo assicurativo coprono proprio questo i danni materiali e diretti che occorrono alle merci durante il trasporto. Questo vuol dire che eh perché parlavo prima di eh acquirenti o venditori eh solitamente eh sappiamo che eh una la merce dovrebbe essere eh diciamo assicurata da qualcuno chissà per quale motivo in Italia si pensa sempre che che la propria merce sia assicurata da qualcun altro non ben identificato molto spesso succede ve lo posso assicurare eh quindi mh queste queste merci in questa slide vediamo che la durante una compravendita all'atto della compravendita sostanzialmente eh chi decide di assicurare le merce lo può fare sia per conto proprio sostanzialmente sia per conto di chi spetta eh poi vedremo che vuol dire anche il la dicitura per conto di chi spetta perché solitamente ehm chi ha interesse specifico chi deve assicurare la merce è ovviamente identificato dal codice civile ehm quindi si può avere sia eh si può avere sì l'onere ad assicurare la merce quindi previsto dal dal codice civile dal nostro ordinamento giuridico ma si potrebbe anche assicurare la merce eh per n motivi che riguardano motivi commerciali motivi di eh liquidità piuttosto che di eh dilazioni di pagamento queste motivazioni dovrebbero spingere il venditore a eh ad assicurarsi la merce anche qualora questa non fosse al suo carico sostanzialmente ora identifichiamo nello specifico che cosa quali sono eh diciamo quale cosa prevede l'ordinamento giuridico eh in questo in questo senso eh parlerei di contratto di assicurazione quindi eh citato dall'articolo 1882 come vedete è il contratto con il quale assicuratore ovviamente eh dopo aver acquisito un premio eh che è il costo della polizia evidentemente si obbliga a rivalere l'assicurato del danno eventuale ad esso prodotto eh evidentemente questo significa che nel momento in cui un danno eh ha una parte di merce questo significa che non tutta la merce sarà risarcita ma sarà risarcito esclusivamente il valore che consentirà il ripristino al al luogo nel luogo di destino di quella merce evidentemente quindi se eh un macchinario dovesse essere diciamo a dovesse avere un ribaltamento e può essere eh naturalmente riparato lo si farà e l'assicurazione interverrà proprio in questo nel caso in cui questo macchinario non potesse essere riparato per n motivi perché magari un pezzo unico ci sono dei costi di eh di gestione tali da non consentire diciamo il ripristino evidentemente l'assicurazione dovrà risarcire l'intero valore di otto macchinario. Nel momento in cui paga la copertura la compagnia di assicurazione che cosa succede? È ovvio che se dovesse pagare e il eh e qualcun altro avesse un un indennizzato avesse il diciamo eh non fosse stato lui ad essere identificato nel contratto eh quale l'assicurato specifico e quindi in nel momento in cui si parla di eh assicurazione per conto di chi spetta sostanzialmente l'assicurazione ha il diritto a subentrare nel nei diritti del beneficiario che vuol dire che potrebbe andare in rivolza ma questo non vuol dire che lo farebbe che lo farà in ogni caso può andare in rivolza nei confronti di chi si è reso responsabile di quel danno eh vedremo poi successivamente eh in che modo il vettore o lo spedizioniere sono responsabili e per quale motivo entrano poi nel nel in questa eh diciamo ehm in questo contesto eh è soltanto l'assicurato evidentemente ad avere un interesse assicurabile a e quindi colui che eh diciamo il soggetto in capo al quale si esercita il 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 pregiudizio economico evidentemente è eh soltanto l'assicurato quindi ci sarà una parte che si chiamerà contraente che eh sostanzialmente sottoscriverà il contratto di assicurazione e eh ci sarà anche una una parte che potrà essere diciamo identificabile anche in quali come contraente ma non vuol dire che eh essa lo sia quindi l'assicurato sul quale diciamo gravano tutti una serie di eh situazioni e il soggetto sul quale si manifestano gli eventi sostanzialmente ehm e poi ci sarà ovviamente il ehm il beneficiario che avrà il diritto a ehm a percepire l'indennizzo quindi di cosa parliamo sostanzialmente il nostro eh le nostre coperture danni ehm sono dei contratti con i quali noi ci obblighiamo in qualità di assicuratori eh verso il pagamento di un corrispettivo di un premio eh a rivalere l'assicurato dei danni materiali e diretti ripeto materiali e diretti semplicemente perché eh la copertura trasporti nello specifico non garantisce anche le perdite di tipo finanziario o comunque quei danni indiretti che non sono oggetto di copertura e quindi non riguardano le merce durante il trasporto. Eh faccio un esempio un autocarro si ribalta con della merce a bordo questa merce subisce eh non subisce danni nel ribaltamento ma eh c'è un danneggiamento per esempio alla sede stradale. Bene questo danneggiamento sostanzialmente non rientra nella copertura assicurativa trasporti salvo il caso in cui eh questa eh estensione non sia ovviamente eh stata acquisita nell'atto della sottoscrizione della copertura. Ehm queste coperture in generale queste quali danni possono essere stipulate abbiamo detto in conto proprio o per conto di chi spetta. Eh che vuol dire? La polizza effettuata in nome eh e per conto proprio sostanzialmente è quella per cui il contraente è realmente esposto nel rischio quindi sostanzialmente coincide con l'assicurato. Ok? Quindi io sono il proprietario della merce acquisto diciamo una determinata tipologia di merce dall'estero eh acquisto con un eh termine di resa che eh mi obbliga a mh ad assicurare la merce durante il trasporto bene io dovrò fare una copertura assicurativa per conto proprio sostanzialmente quindi quella copertura assicurativa avrà un contraente che sarò io e l'assicurato me medesimo. Quindi eh sostanzialmente contraente è assicurato coincidono e quindi eh questo questo aspetto evidentemente è quello classico o quello che solitamente diciamo ci viene prospettato sul mercato semplicemente perché il contraente eh è consapevole di quelli che sono i rischi durante il trasporto e quindi si premunisce in questo senso e eh ricerca sul mercato tramite intermediari che possono essere broker o agenzie di assicurazione quello che ovviamente eh è necessario per durante il trasporto eh una copertura quindi una copertura che possa tenere in denne la la propria merce durante il trasporto qualora ci fosse un un sinistro. Eh assicurazioni ehm che sono effettuate invece per conto altrui sono tutte quelle coperture che vengono effettuate dai ehm abbiamo detto prima eh dagli attori del trasporto eh quindi sono gli operatori del trasporto sono eh gli spedizionieri sono i vettori coloro che hanno il loro autocarro e che operano sostanzialmente sul territorio italiano europeo con i propri mezzi. Eh possono essere anche operatori malittimi, operatori aerei. Quindi tutti coloro che operano eh in qualità di eh trasportatori o organizzano il trasporto per quanto altrui quindi anche gli anche gli spedizionieri possono effettuare una copertura eh per conto altrui per conto di chi spetta si dice. Perché dico possono effettuare una copertura di questo genere? Semplicemente perché non sono loro che devono assicurare la merce ai fini ai sensi dal punto di vista giuridico eh in linea teorica gli operatori del trasporto devono semplicemente eh coprire i loro gli eventuali danni patrimoniali che possono generare durante la loro attività. Quindi questo è un altro errore che si fa molto spesso da chi opera sui mercati internazionali ma anche eh diciamo sul territorio nazionale e cioè quello di confondere spesso le responsabilità delle parti coinvolte durante il trasporto. Eh perché? Perché molto spesso ripeto in Italia non essendoci una cultura finanziaria si pensa che qualcuno per conto proprio abbia abbia assicurato la merce nel momento in cui venga viene spedita. Purtroppo questo non succede e non succede sempre succede anzi di rado eh succede soprattutto quando eh l'operatore del trasporto per offrire un servizio alla propria clientela sostanzialmente propone mh propone una copertura danni per conto di chi spetta una copertura che in linea teorica non gli appartiene non dovrebbe essere lui ripeto ad effettuare questo tipo di copertura lo fa semplicemente per rendere un servizio alla clientela quindi la sua clientela evidentemente è il proprietario della merce sono gli utenti del trasporto abbiamo detto prima quindi chi compra chi vende chi commercializza chi ha un interesse specifico ad assicurare la merce perché ne viene in contatto materialmente eh perché dovrebbe dovrà lavorarla non c'è in qualità di proprietario può essere che il il la merce venga spedita semplicemente per una lavorazione ulteriore quindi tutti questi eh soggetti che intervengono in questa in questa fase evidentemente mh dovrebbero assicurare le merci eh rispetto a quelli che sono gli gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico oppure dalla dall'incotence eh il contraente naturalmente tornando a noi eh posso fare una domanda al volo tanto per far capire alle imprese la 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 il fenomeno su cento spedizioni quante sono assicurate dal cargo owner e quante più o meno sono assicurate diciamo dall'erogatore dei servizi di trasporto di spedizione che sia secondo la tua esperienza? Bella domanda io io purtroppo eh dalla mia esperienza posso dire che probabilmente solo un venti per cento dei proprietari delle merci assicurano la merce in proprio cioè si preoccupano di eh diciamo andare alla ricerca di una copertura assicurativa che possa soddisfare le proprie esigenze eh molto spesso questa copertura assicurativa è il caso più semplice ed è in meno optato esatto è quello più semplice in realtà perché purtroppo è così ehm è così sinceramente non non ho una risposta probabilmente semplicemente una questione di di cultura assicurativa vediamo successivamente nelle slide anche eh quali potrebbero essere questi eh diciamo eh queste problematiche che legano sostanzialmente il il l'imprenditore a questa vecchia metodologia sono ipotesi che probabilmente poi vedremo anche avrò piacere di di sentire domande per capire anche come si approcciano i nostri i nostri associati i vostri associati sostanzialmente a questo a questo aspetto eh che non è da diciamo da sottovalutare eh per la mia esperienza ripeto eh quello che fa più specie è che proprio essendo una eh diciamo la soluzione più semplice da percorrere eh teoricamente quella legalmente più riconosciuta che avrebbe meno vincoli o comunque avrebbe anche meno condizioni restrittive rispetto a un contratto che propone uno spedizioniere piuttosto che un vettore eh purtroppo non è abitualmente utilizzata dal mercato questa è la realtà ehm proviamo ad andare avanti poi eh sarò contento di rispondere alle domande ma anche di avere qualche feedback in questo senso che possa insomma avere un seguito da affrontare poi successivamente una diciamo un percorso eventualmente che possa essere utile un po' a tutti ehm sostanzialmente chi non ha il la qualità di assicurato evidentemente non ha eh titolarità nel nel diritto dell'indennizzo evidentemente possiamo eh diciamo coloro che hanno questo questa diciamo ehm questa figura che eh in capo alla quale diciamo nasce il diritto nascente nel diritto della della copertura assicurativa eh ha necessità di esprimere il proprio consenso al c'è necessario il consenso sostanzialmente dell'assicurato perché ci possa essere un diritto all'indennizzo e questo è evidente eh l'assicurato abbiamo detto il portatore del rischio è colui che in capo al quale si ripercuoteranno tutte quelle conseguenze ma patrimoniali che sono state eh diciamo identificate all'interno della copertura assicurativa del contratto stipulato tra contraente abbiamo detto eh eh e assicuratore ehm a lui evidentemente potranno essere opposte tutte quella serie di eccezioni che sono dipendenti da quel contratto evidentemente quindi eh non si potrà pertanto liquidare un danno che non è previsto all'interno della copertura assicurativa anche se lui sarà il in questo caso il il beneficiario della dell'indennizzo evidentemente c'è sempre un contratto a monte che in questo caso non è stato stipulato dall'assicurato ma dal contraente ora ehm analizzando eh invece il tutti quei contratti che possono che intervengono nel momento in cui e che si sovrappongono poi a questo stato di eh diciamo eh alla alla ai rapporti tra contraente assicuratore evidentemente ci sono tutta una serie di contratti che sono i contratti di compravendita ai contratti di trasporto evidentemente che si sovrappongono molto spesso e molto spesso succede anche che ehm il contratto di trasporto eh venga identificato come un contratto che eh fa sorgere dei eh vincoli o degli obblighi in capo al trasportatore eh relativamente ai rischi durante il trasporto eh questo molto spesso non è vero perché eh nel momento in cui io acquisto faccio un esempio molto banale acquisto della merce dal del dei dei pannelli fotovoltaici dalla Cina e lascio che il mio eh diciamo fornitore mi identifichi la compagnia di navigazione il primo vettore che effettuerà il trasporto ma anche quello successivo che farà il trasporto diciamo dal porto di arrivo sino al mio magazzino questo non vuol dire che il eh diciamo il proprietario della merce in questo momento il il venditore della merce il cinese sostanzialmente mi stia eh procurando anche una copertura assicurativa molto spesso succede in Italia proprio questo ehm cioè il il diciamo il il confondere il il contratto di trasporto o comunque i relativi obblighi diritti e doveri di questo mh del contratto di trasporto che sorgono nel momento in cui si effettua una contravendita eh ribaltarli anche pensando che il eh anche gli obblighi i relativi rischi durante il trasporto sia di competenza di colui che eh si occupa della diciamo della dell'individuazione del dei costi relativi al trasporto stesso è una confusione che generalmente mh sul nostro mercato purtroppo si verifica questo è un altro eh rischio che un altro diciamo problema che che occorre proprio nel nostro ordine nel nostro diciamo eh nel nostro paese nel nostro territorio ma in tutta Italia questo eh non non facciamo distinzioni molto spesso si confonde eh chi effettua diciamo i diritti e gli obblighi di chi effetto deve effettuare diciamo si deve occupare della del trasporto con i diritti e obblighi che nascono in capo al compratore o al venditore nel momento in cui si effettuano compravendita e quindi i relativi rischi ehm ecco perché analizziamo tutti questi contratti semplicemente per dare un nome e cognome a tutte le parti coinvolte e a quelli che sono gli obblighi e diritti di ognuno di loro il l'articolo 1470 in effetti dà un un riferimento proprio in merito a questo e cioè ci dice che eh nel momento in cui si ha il diciamo una una compravendita e quindi il trasferimento di 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 merce a distanza evidentemente eh viene implementato dal 1510 che dovrebbe essere tenuto ben a mente eh dai più nel momento in cui eh operano esclusivamente sul territorio nazionale che ci dice sostanzialmente cosa che è la cosa venduta nel momento in cui il vendito il venditore diciamo ehm ehm finalizza un contratto di compravendita eh il venditore sostanzialmente si libera dall'obbligo della consegna nel momento in cui eh rimette la 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 merce venduta al vettore nel luogo di partenza eh salvo patto contrario questo che significa che eh il colui che deve occuparsi della copertura assicurativa è il compratore questo succede per tutte le compravendite effettuate sul territorio nazionale perché ai sensi dell'articolo 1510 sostanzialmente salvo patto contrario la situazione dovrebbe essere questa dico dovrebbe perché perché molto spesso si confonde o si tende a confondere le acque si tendono diciamo a ehm si tende a pensare che l'oggetto sia comunque assicurato anche il compratore molto spesso nel momento in cui eh acquista della merce a distanza sul territorio nazionale pensa che questa merce sia stata già assicurata a cura del venditore eh semplicemente perché il venditore si occuperà eventualmente del trasporto o semplicemente perché non se ne vuole occupare eh o semplicemente perché non conosce l'articolo 1510 eh non c'è un motivo sinceramente non ho idea delle motivazioni che portano a pensare ad avere questa questa logica sinceramente perché ehm l'articolo è uno è abbastanza chiaro e molto spesso vi posso garantire che non è eh non si va in deroga rispetto a quest'articolo al 1510 e quindi sostanzialmente questo quello che voglio dire è che eh il compratore in Italia è sempre responsabile della merce durante il trasporto che vuol dire che se la merce viene venduta a distanza e eh c'è un danno un parliamo di un ribaltamento di un eh diciamo di una mancanza di freddo durante il trasporto perché c'è un'interruzione dell'impianto frigorifero piuttosto che di un furto di una rapina o di ammanchi in genere sostanzialmente tutti questi eventi ricadono sul compratore perché non il compratore non effetto a una copertura assicurativa sinceramente non mi è dato saperlo eh molto quello che tu dici è eh sì potrebbe confondere parecchio poi su quello che abbiamo spiegato degli incontri poi ho visto che ci tornerai e andrei avanti però quello che voglio dirti è è una situazione giuridica propria italiana che però trova uguali nel resto almeno d'Europa o è davvero una previsione come dire che non viene percepita perché come dire è fuori dallo standard giuridico prevalente almeno per i paesi europei? Allora eh quello che succede a livello internazionale evidentemente è eh regolamentato dagli incotems no? Quindi sostanzialmente noi stiamo parlando di trasporti nazionali ok? Eh il mille cinquecentodieci interverrebbe esclusivamente per il territorio nazionale quindi nel caso in cui due aziende fossero acquirente e venditore fossero sul territorio nazionale evidentemente eh si va incontro all'articolo al mille cinquecentodieci quindi sarebbe il compratore a doversi occupare della del rischio durante la mer durante il trasporto. Spieghiamolo bene perché allora appunto noi abbiamo sempre parlato di transazioni internazionali e questo poteva generare appunto qualche potenziale conflitto tra appunto incoterms e codice civile no? No no assolutamente non c'è nessun conflitto il territorio nazionale è coperto dal dal codice civile civile quindi mille cinquecentodieci trasporti nazionali occhio perché il vendi il compratore ha una serie di obblighi fuori da questo nelle transazioni internazionali abbiamo proprio così. Scusa mi ho precisato perché giustamente nei tecnicismi poi dobbiamo dare qualche elemento così di un po' grossolano ma di certezza. Dicevo molto spesso succede questo succede che il compratore non si occupi della copertura assicurativa semplicemente perché non avendo pagato il la merce immediatamente in anticipo perché molto spesso ci sono delle dilazioni di pagamento evidentemente allora si pensa di potersi rivalere in qualche modo ma se il venditore non avesse nessun interesse a trattenere quel cliente o comunque non ha un rapporto fiduciario continuo è evidente che potrebbe far valere i suoi diritti in sede giudiziale è ovvio che in questo caso nel caso in cui non si fosse stabilito qualcosa di diverso a livello di compravendita è evidente che il compratore soccomberebbe. Non ci sono dubbi su questo. Abbiamo parlato quindi di contratto di compravendita parliamo di contratto di trasporto che obbliga il vettore sostanzialmente verso il corrispettivo di un prezzo a trasferire persone o cose da un luogo all'altro che vuol dire che il ventore sostanzialmente è un'altra persona un altro diciamo soggetto che viene molto spesso identificato in colui che dovrebbe risarcire nel caso in cui ci dovesse essere un danno alla merce durante il trasporto sbagliatissimo evidentemente perché perché il trasportatore il vettore abbiamo detto che è un operatore del trasporto è un attore del trasporto e quindi ha una responsabilità patrimoniale che molto spesso anzi sempre non coincide con il valore reale della merce perduta o danneggiata ok quindi noi possiamo chiamare sì con il vettore a rispondere del danno alla merce durante il trasporto perché evidentemente lui avrà una responsabilità in questo senso perché deve provare evidentemente che qualcosa è andato storto contro la sua volontà o che non poteva far nulla per evitare quel danno e lui che lo deve provare quindi sostanzialmente lui è sempre responsabile diciamo ha sempre una responsabilità patrimoniale questa responsabilità patrimoniale può variare in maniera abbastanza notevole faccio un soltanto una sintesi per dare delle delle pillole in questo senso ci sarebbe da parlare a lungo però dico soltanto che sul territorio nazionale il vettore è responsabile per solo un euro al chilo di merce perduta o danneggiata in ambito internazionale quindi in europa in regime cmr per capirci cioè quella convenzione che hanno firmato tutti i paesi europei la convenzione la convenzione maschandise parrut che sostanza del 1956 che obbliga il vettore risarcire per 8,33 diritti speciali di prelievo che coincidono sostanzialmente con circa euro 9 9 euro e 50 al chilo e quindi già questo è una un ristoro importante se vogliamo perché poi la nostra merce agricola piuttosto che e semi lavorati probabilmente rientrerebbero anche in questo contesto ma pensate a quelli a coloro che insomma trasferiscono in italia dei beni e che hanno soltanto un risarcimento ridicolo che è quello di un euro al chilo quindi per queste motivazioni il proprietario della merce deve intervenire prima del trasporto perché la merce possa essere assicurata correttamente perché nel momento in cui ci dovesse essere un danno è vero ripeto che il vettore può essere chiamato in causa o comunque può essere chiamato nel gioco del risarcimento ma il vettore risarcisce solo un euro al chilo quindi se ho un tablet per capirci che sto nel valore di 3.500 euro il tablet probabilmente peserà meno di un euro di un chilo e sostanzialmente il vettore risponderà per un euro ok stiamo parlando di questo nel caso in cui ci dovesse essere una perdita totale il contratto di spedizione invece il contratto di mandato con cui lo spedizioniere si assume l'obbligo di concludere il nome proprio per conto della mandante un contratto di trasporto che vuol dire che lo spedizioniere per la sua natura evidentemente conclude diciamo dei rapporti dei viene chiamato in causa nella compravendia internazionale laddove il proprietario della merce l'impresa diciamo italiana sostanzialmente ha necessità di concludere contratti con con l'estero e quindi di effettuare delle spedizioni all'estero per la sua natura per le sue capacità e lo spedizioniere viene chiamato in questo contesto a effettuare tutta quella serie operazioni doganali di trasporto individuazione della della nave che devo trovare effettuare il trasporto e anche eventualmente potrebbe essere chiamato a diciamo in questo contesto evidentemente essendo un operatore del trasporto come il vettore potrebbe essere diciamo lui ad effettuare una copertura per conto di chi spetta ripeto questa copertura è la stessa che dovrebbe fare il proprietario della merce quindi è un servizio che lo spedizioniere così come il vettore forniscono al proprietario è un servizio evidentemente che dovrà essere pagato al di là di ogni considerazione e avrà ovviamente delle caratteristiche molto probabilmente saranno caratteristiche che sono in linea con quelle che potrebbero essere diciamo generate dal 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 vettore ma sicuramente potrebbero anche essere peggiorative sostanzialmente ci sono due parti nella con nel contratto di contravendita che intervengono eh a distanza molto spesso eh il mittente che istruisce il vettore eh li dà tutti i riferimenti relativi al destinatario alla destinazione della merce alla natura alla diciamo alla località di destino a tutta una serie di informazioni che ovviamente sono insite nella natura delle merce cioè a quanto a che eh diciamo a che temperatura dovrebbero essere trasportate tutta quella una serie di caratteristiche che riguardano effettivamente le merci durante il trasporto e che devo per cui devono essere ovviamente ehm utilizzate delle prescrizioni dall'altra parte abbiamo ricevitore che nel momento in cui eh riceve la merce è colui che deve generare una riserva nel caso in cui dovesse esserci qualcosa sulla merce che non eh che qualche problematica che viene evidenziata in fase di consegna eh in questo modo sostanzialmente colui che ha un ehm diciamo l'onere di assicurare la merce può eh sollevare diciamo un po' può 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 agire nei confronti della compagnia assicurativa nel caso in cui fosse assicurato evidentemente e con la riserva apposta al ricevitore eh può generare evidentemente un sinistro che poi sarà valutato eh rispetto a quelle che sono le condizioni contrattuali di polizia che sono state stabilite tra contraente e assicuratore abbiamo detto questo è quello che succede a livello nazionale abbiamo detto l'articolo mille cinquecentodieci eh ci dà eh questo eh questo spaccato di quello che è l'attività che viene generata a livello sul territorio nazionale nel momento in cui c'è un approccio internazionale evidentemente eh la situazione sarà completamente diversa perché molto spesso si dovranno andare a identificare sul mercato dei termini di resa stabiliti dagli incotems eh che evidentemente eh daranno dei riferimenti su chi e come si dovranno sostenere i rischi eh durante il trasporto la consegna delle merci bione ridocanali e quindi tutti i relativi costi che eh vengono generati diciamo a livello eh di compravendita a livello di trasferimento della merce sappiamo che il l'incotems si eh possono dividere in quattro categorie ben precise eh che vedete eh quello a cui sostanzialmente quello che sostituirebbe se vogliamo o quello simile al codice civile italiano è il ehm è il ex worth sostanzialmente è quel è quel qui vedete graficamente quali sono le responsabilità delle parti coinvolte quindi la responsabilità del venditore eh eh diciamo eh evidenziata in arancione la responsabilità del compratore in 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 verde come vedete l'ex works che al primo nel primo livello ehm il il venditore si libera della cosa nel momento in cui la consegna al vettore nel luogo di partenza dal momento in cui la consegna avviene sostanzialmente il venditore eh si libera da qualsiasi altro problema quindi costi inerenti il trasporto o nei ridocanali eh rischi eh conseguenti al trasporto sono di competenza del compratore eh nel caso eh opposto nel caso di vendita a DDP del delivery duty paid to che è l'ultimo livello sostanzialmente tutti questi costi tutti gli oneri eh i costi il diciamo i rischi derivanti dal trasporto sono in capo invece al venditore poi ci sono tutta una serie di situazioni intermedie evidentemente che molto spesso eh vengono utilizzate soprattutto nel a livello di compravendita internazionale tra cui il FOB il free on board il cost insurance and freight chief ehm tutta una serie diciamo di complicazioni perché sono complicazioni che molto spesso vengono eh diciamo identificate dalla controparte estera perché anche questo mh purtroppo io non ve lo so non vi so rispondere a questa domanda perché molto spesso probabilmente il eh non voglio dare delle colpe però probabilmente in Italia non c'è ancora quella cultura da ehm da imporre eh un termine di resa alla controparte si preferisce diciamo sottostare a quelle che sono le condizioni del eh della controparte estera e quindi questo che cosa comporta comporta che se io vado a assicurare la merce soltanto dal porto per esempio eh nel caso di compravendita free on board eh succede che il una parte del rischio dovrà sostenerla il venditore vedete sino al porto di di partenza sino al momento in cui la la merce non varca la la murata della nave eh mentre tutta una serie di di costi o rischi determinati dal dal trasporto sostanzialmente sono in carico in capo al al compratore dal momento da questo stesso momento in poi eh questo che cosa vuol dire che è una copertura assicurativa in questo caso eh noi dovremmo valutarla dal momento in cui la merce esce dal magazzino del nostro cliente nel caso in cui esso fosse il venditore eh in Italia quindi sino a quando la la merce non sarà a bordo della nave nel porto di partenza eh che cosa succede che se questa merce e magari questa parte è la più semplice da sostenere ma pensate alla a quella merce che invece dovrà partire da un porto di partenza e dovrà essere assicurata per la parte rimanente chi mi dice che quella merce durante il trasporto iniziale di parte o che 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 le ha consentito di raggiungere il porto di partenza non abbia già subito dei danni è vero che ci sono c'è la il ricevitore che deve sporre eh diciamo deve deve apporre una riserva al documento di trasporto nel momento in cui rileva dei particolari danni evidenti ma questo non vuol dire che tutti i danni possono essere rilevati visivamente quindi io probabilmente nel momento in cui dovrò assicurare questa merce eh dal dal porto di partenza al al diciamo al luogo di destino del mio cliente finale eh potrò eh potrò essere oggetto di diciamo ehm di di problemi che sono intervenuti sostanzialmente a mh nella prima parte del del trasporto e quindi queste considerazioni devono essere fatte proprio eh nel momento in cui questi tre diciamo questo questo trasporto è di natura complessa come in questo caso che voglio dire che è è preferibile andare a assicurare la merce sostanzialmente dal momento in cui parte sino al momento in cui arriva a cura di uno delle due parti con delle due parti coinvolte eh nella compravendita perché perché anche la compagnia assicurativa ha la possibilità di capire meglio qual è il di identificare il rischio capire come deve essere trasportata eh avere la certezza che non ci siano stati danni eh prima o dopo diciamo il suo intervento e quindi tutta una serie di garanzie che probabilmente eh in altro modo non non ci sarebbero queste sono tre condizioni che dovrebbero spingere sostanzialmente eh qualsiasi soggetto interessato da una compravendita a distanza ad effettuare una eh garanzia una copertura assicurativa in conto proprio eh parliamo evidentemente di chi ha l'interesse specifico ad assicurare le merci quindi il proprietario che vende o acquista abbiamo detto le aziende di compravendita le aziende che producono e rivendono merce sul mercato eh sia a livello nazionale che internazionale eh quali sono queste tre caratteristiche il il la certezza delle condizioni assicurative che molto spesso in una copertura danni per conto eh non è possibile avere semplicemente perché il contraente in quel caso lì sarà il vettore sarà lo spedizioniere quindi se il vettore lo spedizioniere contraggono un'assicurazione per conto di chi spetta quindi per conto del proprietario della merce il proprietario della merce probabilmente non avrà mai la disponibilità certa di quelle condizioni pattuite tra spedizioniere tra vettore e assicuratori nonostante lui sia l'assicurato lui non avrà la possibilità di verificare mai questo queste queste condizioni perché evidentemente eh è vero che la polizza potrebbe essere diciamo eh inviata a a chi ne fa richiesta ma è anche vero che dal momento in cui viene inviata al momento in cui ci dovesse essere un problema sul sul diciamo durante il trasporto queste condizioni potrebbero essere già state modificate oppure il premio non potrebbe anche non essere stato pagato perché si utilizza questa modalità molto spesso a affidare la copertura assicurativa all'operatore del trasporto semplicemente perché si pensa e ripeto si pensa in una riduzione dei costi questo purtroppo perché eh molto spesso eh non occuparsi significa non avere eh costi o problemi ma questo evidentemente non è vero non lo sappiamo tutti purtroppo avendo una copertura diciamo eh la la il il senso sarebbe il diciamo la situazione migliore sarebbe quella di fare effettuare di effettuare in proprio una copertura assicurativa uno per limitare i costi o comunque per gestire direttamente i costi due per avere la certezza delle condizioni di assicurazione che vengono stabilita con la compagnia assicurativa tre soprattutto avere un rapporto diretto con l'assicuratore che questo ovviamente che 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 mi farebbe generare diciamo una eh una soddisfazione sia dal punto di vista eh del ristoro che ehm diciamo eh una gratificazione che potrebbe essere in capo al mio cliente finale quindi anche se la copertura assicurativa fosse in carico al mio cliente finale sostanzialmente io avrò comunque un interesse specifico a effettuare una copertura per lui perché evidentemente ne trarrò beneficio eh a livello commerciale questo è evidente no per tutti questi motivi teoricamente la copertura aziende nel una copertura industria evidentemente è la è quella più ehm più semplice e più idoli adatta a a percorrere nel momento in cui c'è una contravendita ehm corro perché mi sembra di essere un po' in ritardo allora eh volevo fare scusate ma gli argomenti sono molto eh ma sì ma abbiamo trovato due termini che si incrociano in pieno con quello che abbiamo trattato nei seminari precedenti quindi è stata opportuna fermarsi su due o tre punti critici insomma ah questa questa è la prossima slide credo che siano quelle più significative poi perché eh vanno a considerare proprio quegli elementi che mi avevate proposto in fase di eh diciamo ehm di erogazione del corso e cioè eh a che cosa si fa riferimento nel momento in cui l'assicuratore eh prende in considerazione un rischio sostanzialmente ci sono una serie di elementi che vanno valutati questi elementi sostanzialmente dovrebbe averli dichiari l'imprenditore nel momento in cui propone il rischio all'assicuratore semplicemente perché agevola gli assicuratori eh nella modalità più semplice per effettuare una quotazione una 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 diciamo l'attribuzione delle condizioni evidentemente eh quali sono queste mh questi elementi la tipologia della merce quindi sostanzialmente se merce elettronica piuttosto che merce da trasportarsi a a temperatura controllata evidentemente saranno due situazioni completamente diverse che eh sono ehm necessarie da eh da da specificare quindi avere la tipologia della merce è fondamentale per noi per capire anche come quella merce deve viaggiare e come deve essere condizionata come con quali mezzi potrebbe diciamo con quali mezzi si potesse si potrebbe diciamo generare si potrebbe sviluppare il trasporto e quindi tutta una serie di informazioni che evidentemente ai ai più probabilmente sfuggono la natura della merce che vuol dire vuol dire che la merce è evidente che eh avendo eh merce nuova usata per esempio è completamente diverso per un assicuratore è ovvio che la merce nuova determina può determinare condizioni di pieno rischio la merce usata eh ha delle caratteristiche non che implicano un diciamo una una condizione più limitativa rispetto dal punto di vista assicurativo quindi probabilmente a questa a queste merci potranno essere soltanto attribuite delle condizioni limitate quindi incendio il ribaltamento del mezzo rischi catastrofali per capirci il l'uscita di strada il furto eh piuttosto che la rapina tutta una serie di altri rischi probabilmente in questi casi si evita di eh concederli eh qual è il valore il diciamo il la condizione eh principale che genera il pricing della della premio della della polizza evidentemente il valore della merce che vuol dire che eh se ho una è ovviamente ehm direttamente proporzionale no in questo senso quindi eh se ho una un valore complessivo eh un valore della merce che ha una una un ammontare di centomila euro è evidente che il premio probabilmente sarà maggiore rispetto a quello di un di merce che che può generare una una polizza da eh su una su un valore di trentamila euro eh la stessa condizione anzi eh la situazione inversa si verifica eh diciamo quindi una situazione di eh di proporzionalità inversa sul valore complessivo della merce che vado a assicurare che vuol dire che se io ho un fatturato di dieci milioni di euro è evidente che andrò a applicare un tasso più eh più basso rispetto a ad avere un fatturato a due milioni di euro e probabilmente il premio sarà superiore eh ma il tasso eh specifico per ad attribuire a quella copertura sarà inferiore eh altra condizione che determina il pricing eh sono le garanzie richieste quindi se io ho bisogno di eh coprire una ehm una tipologia di merce che mi comporta mi implica eh di eh che la stessa viaggia a temperatura controllata evidentemente il mancato freddo in questo caso quindi il quelle interruzioni di temperatura che si potrebbero verificare durante il trasporto eh saranno coperte sì ma ovviamente avranno un costo no rispetto a eh a trasportare al trasporto di marmo o a blocchi di marmo è evidente questo eh la territorialità è un altro aspetto che viene preso in considerazione perché è evidente che ci sia ci sono dei paesi soprattutto dei paesi eh che possono subire degli imbarchi quindi in questo caso parliamo di Iran eh Corea del Nord Cuba Sudan Sud Sudan eh Crimea eh o piuttosto che nei quali peraltro le coperture assicurative non vengono eh non possono essere prestate perché evidentemente eh la situazione di embargo eh obbliga eh gli stati a non a non poter diciamo intervenire eh ma ci sono anche altri paesi che hanno dei dei rischi guerra e scioperi più elevati rispetto allo standard tradizionale quindi eh parliamo di Brasile evidentemente Messico eh come potete immaginare eh hanno dei rischi guerra e scioperi più alti rispetto a quello che può essere rischio Italia eh la modalità del trasporto è altro fattore importante perché eh un trasporto effettuato a mezzo nave eh è ovvio che eh sia più rischioso rispetto al trasporto unico a mezzo autocarro eh il trasporto con mezzi propri o con mezzi terzi evidentemente eh genera una una problematica nel caso in cui il trasporto diciamo il il improprio il trasporto probabilmente sarà un po' meno rischioso rispetto al vettore terzo perché evidentemente non ci potranno essere ammanchi ma non cade consegne smarrimenti ma non missione nella maggior parte dei casi perché si sa dove andare a consegnare solo a eh solo ehm diciamo percependo questo questo aspetto si si può intuire tutto quello che può essere generato dal vettore terzo il sistema di sorveglianza che viene viene diciamo predisposto sui sistemi diciamo eh del sui sui sistemi diciamo di controllo del mezzo quindi dispositivi di sicurezza sul mezzo che possono essere rilevabili a distanza o collegati con centrali operative per trasporti di un certo tipo ehm le modalità di condizionamento della merce abbiamo detto e sono fondamentali perché è ovvio che se io trasporto i pannelli solari buttati gettati su un cassone è evidente che possono avere dei danni rispetto alla alla una modalità consona di condizionamento della stessa merce e la stessa copertura assicurativa abbiamo detto che può essere generata da entrambe le parti quindi sia il compratore che il venditore potrebbero effettuare una copertura assicurativa durante il trasporto per tutto il trasporto quindi in questo caso evidentemente si potrebbe anche ehm per star tranquilli molto spesso molto spesso in Italia non succede mai però a livello estero probabilmente può succedere che sia il eh il l'esportatore estero che il l'importatore italiano abbiano una copertura assicurativa similare sulla su quella tratta e quindi eh l'assicurazione potrebbe tener conto che esistendo una copertura similare evidentemente può avere meno rischio comunque potrebbe andare in rivalza nel caso in cui non comportasse l'onere eh in questo caso a carico del suo assicurato ehm ultima slide o comunque una delle di quelle che eh permettono di rispondere alla tua domanda che mi facevi a inizio ehm presentazione eh quali sono per quale motivo i nostri ehm i nostri associati se vogliamo continuano a esportare pil sul territorio estero semplicemente perché tra le possibili motivazioni potrei potrei mettere queste queste che vedete una riduzione una potenziale riduzione dei costi si pensa che il costo eh disinteressandosi della copertura assicurativa possa essere diciamo attribuito alla controparte. L'abbiamo detto che è una riduzione fasulla eh una trasposizione al del problema ma addirittura una perdita di contatto del prezzo poi sul mercato di arrivo quindi è ancora peggio. Assolutamente sì. Infatti questo determina proprio un costo assicurativo incerto come vedete cioè il fatto di non avere una una certezza anche della copertura assicurativa quindi linee da linee della copertura è evidente che ehm viene eh diciamo rilevata nel momento in cui probabilmente eh non ci si comporta come si dovrebbe per la mancanza di competenza all'interno dell'azienda eh che possono capire stabilire quali sono i rischi eh i pericoli connessi alla spedizione della merce eh molto spesso si evita anche di interessare il proprio assicuratore perché questo in linea generale in linea teorica potrebbe generare un costo eh e quindi si preferisce evitare qualsiasi tipo di discorso in questo senso ma ci mi ci metto anch'io e cioè anche noi nel momento in cui eh probabilmente anche la compagnia assicurativa non non ha avuto in questi anni la capacità di eh fornire gli utenti eh delle delle informazioni adeguate per potersi eh diciamo attrezzare nel momento in cui c'è una un'esigenza di questo genere eh perché molto spesso la le assicurazioni sui trasporti sono quelle un po' più di nicchia se vogliamo eh infatti la nostra compagnia se vogliamo è una l'unica sul mercato italiano ad essere in grado di fornire diciamo coperture specifici che è sul sul settore marine ehm e questo evidentemente anche un'arma a doppio taglio sì è vero che probabilmente si lascia fare ai più competenti ma è anche vero che poi la piccola e media impresa resta sprovvista di una copertura fondamentale eh che generalmente non viene eh diciamo utilizzata ma nel momento in cui viene attivata comporta centinaia e migliaia di euro di esborso eh e questo ovviamente molto spesso si tiene a si 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 evita di andarlo a percepire semplicemente perché non si vuole ipotizzare una perdita di bilancio ehm la stessa eh diciamo eh condizione di consapevolezza dell'azienda venditrice anche sul territorio italiano potrebbe far sì che effettuando una copertura assicurativa a favore del compratore anche in virtù del mille 510 eh potrebbe generare una una soddisfazione del cliente no quindi sono tutti elementi che evidentemente dovrebbero essere valutati in fase di acquisizione della eh di di o comunque della clientela evidentemente eh perché amazon per dire eh per fare un nome che ovviamente può dar fastidio eh ipotizza sempre una eh una copertura assicurativa a favore del cliente finale semplicemente per dare un servizio al cliente pur non essendo amazon eh perché tratta sul mercato italiano abbiamo detto il 1510 fa fede pur non essendoci un eh un patto contrario tra le parti quindi tra amazon e il cliente finale amazon preferisce tutelare il cliente finale e quindi si procura o comunque eh consente al cliente finale di la restituzione o comunque la la il il cambio dell'oggetto nel momento in cui c'è un problema e questo come riesce a farlo semplicemente assicurandosi non è che ci sia un'alternativa eh o o ti prendi in carico il rischio che lo metti in bilancio oppure ti assicuri non non è che ci siano alternative eh negli ultimi anni evidentemente questo processo è molto più naturale e dovrebbe essere quanto meno più naturale perché eh il la digitalizzazione abbiamo detto che ha portato anche il nostro eh il nostro la nostra compagnia stipulativa a proporre sul mercato eh coperture sia eh diciamo a tempo ma che quindi riguardano tutto il fatturato sia acquisti che vendite c'è molto più più leggeri gestibili si negozio una volta sola per tutto eh l'anno cioè mi pare di capire così quindi a contraenza industriale o commerciale sul addirittura sul fatturato vuol dire negoziare una volta sola per tutto il bilancio di un certo anno quindi vuol dire estrema flessibilità insomma esatto io preventivo un fatturato acquisti o vendita in polizza applico un tasso e tutto nell'arco dell'anno dell'annualità assicurativa tutto il fatturato di competenza è coperto automaticamente senza senza nessun tipo di problema può essere anche a viaggio spot a viaggio singolo quindi qualora il cliente dovesse avere un'esigenza sporadica evidentemente preferibile ma se il cliente commercializza eh a distanza nell'arco dell'annualità in maniera abbastanza frequente è evidente che conviene più fare una copertura diciamo sul fatturato oppure anche individuando se se commercializza o se trasferisce bene esclusivamente su eh pochi mezzi che ha a disposizione nella sua azienda eh si potrebbe essere anche eh preferibile effettuare una copertura sulle targhe identificate ehm nel momento in cui la 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 targa non basta più perché è evidente che non tutte le aziende hanno eh sono strutturate per questo comunque si affidano a vettori terzi allora la copertura ipotizzata la migliore sul mercato è quella di fare una 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 polizza eh sul fatturato che possa essere ovviamente in linea con quelle che sono tutte le esigenze di acquisto di vendita. L'alternativa a questa potrebbe essere una polizza in abbonamento che dà la possibilità di attivare la copertura assicurativa esclusivamente su alcune spedizioni a chiamata sostanzialmente quindi eh nei limiti di un contratto assicurativo un contratto quadro di riferimento eh anche questa una durata annuale ma permette l'attivazione esclusivamente nel momento in cui il viaggio dovesse essere. E l'attivazione viene fatta direttamente dal cliente o ci sono ulteriori negoziazioni con la compagnia sul singolo viaggio per cui o con o in maniera molto flessibile il cliente può tirarsela giù addirittura da solo? Allora per quanto riguarda la polizza in abbonamento noi prevediamo abbiamo digitalizzato dicevo questo prodotto perché è il prodotto che sostanzialmente viene più utilizzato eh forse dagli spedizionieri non tanto dalle aziende di tipo eh industriale ma comunque eh anche le aziende diciamo proprietarie delle merci potrebbero utilizzare questo strumento quindi nei limiti di un contratto quadro sostanzialmente l'azienda potrebbe autonomamente emettere un certificato una polizza assicurativa quindi senza andare a notificare il rischio con una semplice mail agli assicuratori potrebbe generare direttamente in autonomia eh quindi in azienda per capirci senza l'intervento degli assicuratori un contratto di assicurazione un certificato di assicurazione che varrà per quel singolo viaggio qui vedete una videata che mh vi dà l'idea di quelli che sono i pochi campi da riempire per poter emettere un certificato di questo genere eh perché sostanzialmente eh automatizzando il prodotto evidentemente tutto ciò che è previsto nella copertura assicurativa nel momento in cui si compiono questi campi è richiamato nelle condizioni sono quasi gli stessi campi del CMR alla fine semplicissima davvero esatto semplicissimo e permette ovviamente di agire in autonomia a livello periferico in azienda eh quindi una volta che vengono attribuite le password il cliente finale può ovviamente mettersi il certificato in autonomia altra copertura che generalmente noi offriamo per le aziende sul fatturato in questo caso ehm che viene è stata anche questa automatizzata quindi eh con l'aiuto dell'intermediario quindi sia del del broker che delle agenzie siat sul territorio è possibile andare a identificare eh in pochi click quelli che sono gli standard dell'azienda cioè le esigenze dell'azienda e eh diciamo senza l'interfacciarsi con la compagnia assicurativa il l'intermediario il broker o l'agente siat avrà avrebbe la possibilità di emettere il contratto direttamente a casa del cliente in azienda eh questa è un'altra ehm diciamo un'altra ipotesi che abbiamo previsto e che potrebbe essere utile semplicemente anche per avere un una una contezza di quelli che sono eh eventualmente i dati da poter eh diciamo gestire in fase di trattativa e quindi mh questo ovviamente comporta tutta una serie di eh di situazioni che noi abbiamo evidentemente cercato di evitare cioè il fatto di non avere eh rapporti diretti con con la compagnia o comunque una lungaggine derivante dalla vecchia trattativa che si utilizzava l'intermediario e compagnia una polizza completa che tende a coprire qualsiasi tipo di movimentazione quindi non solo il fatturato acquisti o vendite identificati in polizza ma anche eh le le i trasporti per mostre i trasporti in contolavorazione piuttosto che eh mostre, fiere e quant'altro tutto ciò che viene trasportato sostanzialmente in questa copertura ricade ed è coperto molto spesso quindi eh in ripeto anche qui in pochi semplici passi in poche diciamo eh in una videata nel nel basterebbe inserire il fatturato di vendita eh il la il con la non in azione sociale della contraente sostanzialmente è il la il mercato il il programma dà la possibilità all'intermediario di emettere un preventivo ma anche la polizza se lo si ritene sopportuno direttamente dal cliente. Bene io non voglio più eh dire che abbiamo terminato la nostra il nostro lavoro questi sono i miei riferimenti per chiunque volesse eventualmente approfondire ehm niente che dire. Grazie. Ho una domanda sui canali di vendita ma te la faccio alla fine perché mi hai incuriosito nel rapporto con i brokers soprattutto con questo sforzo di andare direttamente a facilitare le cose al cliente finale ma spero di essere stato nei tempi. Ecco. Per rispetto ai tempi la teniamo alla fine. Grazie. Ok. Intanto grazie dottor Mangia eh appunto per rispettare i tempi passo subito la parola al dottor la banca di Sace quindi chiedo di accendere il suo eh la sua videocamera e il suo audio intanto gli passo allora la possibilità eh di presentare. sì buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti eh spero mi sentiate e mi un po' un po' basso sì forse così meglio 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 grazie grazie allora buon pomeriggio a tutti eh innanzitutto ringrazio Promos Italia e ehm eh il Cisco per questo gradito invito eh al webinar eh sicuramente è sempre un'ottima occasione eh potersi confrontare direttamente con le realtà sul territorio e quindi con con le le PMI in particolare. Ora cercherò di essere veramente molto sintetico perché eh vedo che rimane eh circa venti minuti come tempo. Prenditi la tua mezz'oretta tranquilla che anche se sfondiamo di qualche minuto perché insomma tu rappresenti una cosa poco conosciuta ma molto utile che è quella di securitizzare il pagamento quindi eh vai avanti tranquillo che insomma hai bisogno di dirci cose importanti. Comunque cercherò di sintetizzare al massimo ecco per per stare per stare nei tempi eh sicuramente eh vista l'ampia operatività del polo Sace Simest eh eh è necessario poi eventualmente fare approfondimenti successivi però ecco iniziamo 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 subito entrando nel vivo eh io eh condivido appunto la presentazione ok spero la vediate tutti per ora non ancora ci vuole qualche sì per ora non la vedo è arrivato il messaggio? la vedete? no no aspetta allora dunque riprendo un attimo io la presentazione poi riproviamo a fare il il passaggio passaggio intanto se vuoi dare le informazioni generali appunto di come organizzata eccola qua da posto no questo è il mio aspetta adesso ci riprovo ok ok vediamo subito se ok perfetto perfetto mi ok dovreste vederla sì sì ora si vede perfetto ottimo bene grazie prego adesso non più però no no noi noi lo vediamo ok perfetto ok eccoci allora eh molto rapidamente ehm Sace Simest Sace Simest rappresentano il polo eh dell'export istituzionale a livello a livello italiano ehm il polo significa che eh ovviamente ci sono tutta una serie di eh società all'interno del del quale ehm operano eh rispetto a un fattore comune che è quello del supporto all'export appunto e eh supporto dell'interno all'internazionalizzazione per le imprese italiane eh ci tengo subito a dire questo ehm spesso eh Sace Simest eh vengono eh idealizzate come eh un soggetto un ente istituzionale di eh difficile ehm possibilità di raggiungimento ehm mi sentite? Sempre un po' basso eh scusa eh provo provo un attimo perché sento anche un disturbo in cuffia sì un attimo che forse qua posso aiutare io ok riproviamoci vediamo se questa è la volta buona allora noi sentiamo comunque perfetto ottimo dicevo appunto che Sace Simest rappresentano eh il polo dell'export istituzionale italiano eh all'interno del polo vi sono tutta una serie di società eh ognuna della ognuna ha ovviamente la 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 propria operatività specifica diciamo che il denominatore comune è supporto all'export e alle internazionalizzazione stavo dicendo prima che eh spesso mi capita ancora di sentire io eh seguo la divisione PMI per per il gruppo Sace sull'area nord-ovest quindi parliamo in particolare di Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta eh quotidianamente parliamo con le piccole e medie imprese e eh ancora troppe volte probabilmente anche per colpa nostra eh c'è l'idea che Sace e Simest eh siano eh soggetti eh difficili da 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 raggiungere, difficili da interpellare ehm noi abbiamo sempre lavorato per la la piccola media impresa probabilmente non lo abbiamo mai troppo pubblicizzato dico questo perché ehm perché negli ultimi anni il polo Sace Simest ha eh impiegato veramente grandi sforzi e impiegato eh ingenti risorse eh proprio nell'avvicinarsi ancora di più eh e nel rendere eh diciamo pubblico quello che è il supporto che può dare alla piccola media impresa piccola media impresa che sapete meglio di me che rappresenta oltre il novanta per cento del tessuto imprenditoriale eh in Italia eh questo ehm questa modalità di implementazione anche di avvicinamento mh come è stata fatta ha seguito e segue fondamentalmente tre elementi importanti il primo elemento è quello delle risorse umane no? Quindi eh il fatto eh questo è un dato concreto che eh già da qualche anno è stata creata all'interno del gruppo proprio una divisione PMI cioè una divisione che appunto possa rispondere possa dialogare quotidianamente con il mondo della piccola impresa l'altro elemento importante è quello della territorialità eh quindi eh Sace non è più Sace sede di Roma ma è eh Sace quattordici uffici territoriali in tutta Italia ehm sulla Liguria abbiamo l'Ufficio a Genova in condivisione con Cassa Depositi e Prestiti e eh Sace sono eh e anche dieci uffici della rete internazionale eh uffici della rete internazionale sempre meno uffici di rappresentanza e sempre più uffici eh pienamente operativi ehm l'ultimo elemento importante molto importante è ehm prima eh si è fatto un cenno approfondito su questo è l'elemento della digitalizzazione eh ci tengo a dire che negli ultimi anni abbiamo impiegato ingenti risorse proprio nel digitalizzare tutta una serie di strumenti tutta una serie di servizi e mi piacerebbe al termine del diciamo negli ultimi minuti del mio intervento potervi mostrare bene o meno bene o male l'interfaccia del del nostro sito e dei nostri portali quindi tutta una serie di strumenti tutta una serie di servizi per le PMI e per le imprese in generale sono stati digitalizzati eh sappiamo molto bene che eh spesso la piccola e media impresa ha diciamo poco tempo per necessità eh da dedicare a eh pratiche eh di questo tipo eh quale la polizia assicurativa piuttosto che eh ambiti amministrativi anche perché magari ci sono poche risorse all'interno dell'azienda e ogni singola risorsa segue più campi no dall'amministrazione alle risorse umane e così via eh il fatto di digitalizzare appunto tutta una serie di servizi cosa permette di fare vi permette di entrare eh quando volete di accedere quando volete al alla nostra piattaforma online al nostro sito e gestire eh anche in autonomia tutta una serie appunto di servizi di valutazione anche di gestire le polizze direttamente eh il processo non è ancora concluso stiamo cercando di implementare ancora di più eh la gamma di servizi mh digitali eh ovviamente eh e questo si si lega al primo elemento quello delle risorse umane ovviamente eh dietro ma direi anche davanti a eh ai portali e al sito ci sono le persone quindi eh io invito chi eh fosse interessato ovviamente a comunque contattarci presso i nostri uffici poi alla fine della presentazione troverete i miei riferimenti diretti a contattarci e a presentarci quelle che potrebbero essere le vostre esigenze e quindi eh quello che potrebbe essere lo strumento SACE di interesse ehm vado avanti eh ecco molto molto rapidamente questa è una panoramica di quello che è il polo SACE e SIMEST SACE SPA è la eh diciamo la 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 casa madre la società madre la parent company ed è la export credit agency italiana ogni ognuno dei dei paesi più industrializzati ha una export credit agency eh in Italia la SACE ricopre questo ruolo la SACE SPA eh all'interno del polo poi come vedete vi sono eh altre società controllate da SACE eh ognuna delle quali ha eh una propria operatività specifica e quindi quando parliamo di SACE FCT parliamo di servizi di factoring eh quando parliamo di SACE BT parliamo di mh assicurazione crediti eh in in un contesto diciamo privato così come parliamo di eh possibilità di ottenere delle cauzioni assicurative quando parliamo di SACE SRV dove SRV sta per servizi eh parliamo della possibilità di ottenere delle informazioni commerciali su controparti di essere ma in particolare eh parliamo di servizio di recupero crediti e quando parliamo di SIMEST mh ci possiamo eh riferire a due diciamo ambiti operativi uno quello della partecipazione al capitale e l'altro eh molto di interesse per le PMI eh dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione eh tralascio questa eh diciamo questo eh questa slide eh riassuntiva su eh qualche risultato eh qui vedete quelli che sono eh gli uffici territoriali presenti eh in in Italia e la rete estera eh arrivo a eh quello che noi eh banalmente chiamiamo come il freccione eh e potrei anche fermarmi a questa slide eh perché perché questa slide questa freccia appunto ehm rappresenta la catena del valore completa che eh si eh può ritrovare quindi comporre in una fase di internazionalizzazione quindi partendo dalla conoscenza dallo studio del mercato di un nuovo mercato estero fino ad arrivare eh alla alla vendita quindi all'esportazione e da ultimo arrivare proprio all'investimento diretto sul paese ecco ora voi potete vedere da questo eh freccione eh che per ognuna di queste fasi corrispondono tutta una serie di prodotti soluzioni e servizi che Sace Simest mette a vostra disposizione eh quest'oggi io eh mi eh ecco qui la catena del valore diciamo è nuovamente rappresentata eh vorrei mh soffermarmi più che altro sull'ambito assicurativo eh allora un 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 breve cenno sull'operatività di Sace S.P.A. in particolare S.P.A. opera su due ambiti eh sei in nuovo un pochino scusami un pochino forse è meglio adesso grazie sì un pochino meglio eh Sace S.P.A. opera su principalmente su due ambiti eh quello che è l'ambito assicurativo e il secondo ambito è quello delle garanzie per l'internazionalizzazione quest'oggi vorrei soffermarmi più che altro sull'ambito assicurativo il tema è è questo ehm cosa vuol dire vuol dire che fondamentalmente io impresa esportatrice o che sono in fase di avvio del del mio export posso eh utilizzare la polizza assicurativa Sace come uno strumento in più uno strumento in più per da una parte essere tutelato da tutta una serie di rischi connessi ovviamente alla vendita all'estero eh voi sapete meglio di me che l'export è sicuramente opportunità ma sapete altrettanto bene che l'export è rischi rischi ci sono rischi di varia natura in particolare di natura politica quindi collegati a quello che è il rischio paese no? Di destinazione della merce e rischi di natura commerciale quindi eh collegati direttamente a eh allo specifico mio cliente o potenziale tale estero eh quindi io con la polizza Sace posso da una parte coprirmi appunto da una serie di rischi politici e commerciali dall'altra parte posso utilizzare la polizza Sace eh posso immaginare utilizzare appunto la polizza Sace come uno strumento in più per essere maggiormente competitivo nei mercati esteri questo in che modo poi ovviamente lo 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 approfondirò in che modo potendo andare a eh già in fase anzi soprattutto in fase iniziale quindi in fase di negoziazione a eh concedere al mio cliente estero o ai miei clienti estero esteri delle condizioni di pagamento più favorevoli questo cosa significa? Significa che invece di andare a intervenire sul sull'offerta finale no? Quindi diciamo ehm depauperare quello che è il mio valore eh della fornitura dico no io te lo te la mh questo bene te lo vendo al prezzo che stabilisco io ma ti fornisco un servizio importantissimo che è quello delle condizioni di pagamento più favorevoli attraverso cosa? Attraverso la possibilità di dilazionarti il pagamento guardate ehm credetemi sempre più eh le le in particolare appunto le PMI ci raccontano che eh quasi quotidianamente eh anche per quanto riguarda i clienti già consolidati eh proprio questi ultimi così come quelli nuovi chiedono eh la possibilità di non pagare tutto in anticipo ma eh di poter avere un pagamento dilazionato una forma di pagamento dilazionato eh e mh vorrei portarvi eh un esempio molto concreto ovviamente senza fare nome e cognome di una di una società di cuneo eh con oltre sessant'anni di attività eh settore dei eh macchinari industriali eh ci chiamò due anni fa perché ehm aveva grosse problematiche legate a a una diminuzione drastica del fatturato quindi insieme abbiamo analizzato quelle che potevano essere appunto le le cause no? Di questa diminuzione di fatturato e ci si è accesa la lampadina quando il il titolare eh persona eh squisita ma anche molto eh come dire dura ehm e soprattutto molto eh pratica no? Di quello che era il suo ambito di attività ci ha detto no io eh in cinquant'anni sessant'anni di attività ho sempre venduto chiedendo pagamento cento per cento in anticipo e io di lì non mi muovo il problema però che anche i clienti consolidati negli ultimi due anni direi sì un anno e mezzo due eh hanno iniziato a eh non poter più sostenere questi flussi di cassa no? Questi flussi di pagamento e quindi eh di fronte a un diniego da parte dell'imprenditore anche i clienti più consolidati si sono rivolti a a a concorrenti sia stranieri che anche italiani e quindi ecco da dove derivava il calo di fatturato. Abbiamo provato a spiegare questo meccanismo no? Questa possibilità di utilizzare appunto la polizza sacia in un'ottica di leva commerciale eh beh mh è stato un caso direi di successo uno dei casi di successo eh perché devo dire che eh almeno il settanta per cento dei clienti consolidati che aveva perso con questa formula li ha recuperati e veramente in breve tempo quindi ecco il mio invito vi ho portato un caso molto pratico ehm perché il mio invito è davvero di vedere questi strumenti come un'opportunità in più o perlomeno sapere che esistono. Ecco questa scusami è una per non voglio banalizzare ma per dare questa è una formula assicurativa quindi scatta scatta se capisco bene per tradurlo scatta ecco eh di fronte a un evento cioè il mancato pagamento o la o scatta ecco spiega bene come funziona perché si riesce a confondere a volte col credito documentale o con dall'altra parte col factoring quindi assolutamente sì chiamo la differenza tra gli strumenti che mi pare importante assolutamente sì allora la polizza assicurativa sace va proprio a eh sostituire quello che è è il credito documentario quindi la lettera di credito ok per cui è chiaro che se io ho una lettera di credito irrevocabile confermata la polizza sace perlomeno a copertura del rischio di credito è una sovrapposizione avrei bisogno esatto esatto e ovviamente viceversa con però una tematica eh molto importante che ehm la la i crediti coperti da eh assicurazione eh sace sono crediti eh sono o meglio sono debiti per il buyer non di tipo finanziario ma di tipo commerciale quindi questo innanzitutto è un elemento molto importante per il buyer oltre al fatto che in determinate geografie il costo delle lettere di credito eh e quindi il costo finanziario fondamentalmente è sempre molto 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 elevato e quindi e quindi in questo caso è anche lavorioso se vogliamo molto assolutamente sì assolutamente sì quindi la la polizza assicurativa sace è proprio una forma eh di ehm di tutela dei pagamenti che va a sostituire la lettera di credito eh quindi traduco eh io ho tenuta la polizza è sottoscritta la polizza sace la posso scontare presso la mia banca di riferimento e vengo pagato Italia su Italia scusami la posso scontare cioè presso la mia banca di riferimento quindi e vengo pagato immediatamente Italia su Italia similmente a quanto ho appunto eh vengo pagato a tranche da da Simest e poi vengo pagato a tranche anche dalla mia banca come funziona? Allora funziona così allora innanzitutto parto eh da questo eh le polizze assicurative del del mondo sace sono eh di varie tipologie voi potete ipotizzare di assicurare la singola fornitura potete ipotizzare di assicurare eh un fatturato annuo quindi eh forniture continuative su un singolo cliente estero così come potete valutare di assicurare eh un pacchetto di clienti però ecco la la cosa diciamo che contraddistingue l'elemento che contraddistingue rispetto ad altre offerte commerciali è che con sace potete assicurare anche la singola fornitura eh ovviamente parliamo di Italia su estero ehm partendo da questo da questo presupposto allora la polizza eh sace una volta stipulata eh ovviamente deve seguire quelle che sono le condizioni contrattuali eh inserite all'interno appunto del contratto commerciale con eh eh tra l'esportatore e il buyer estero ma fondamentalmente soprattutto per polizze che coprono eh crediti eh con durata di medio lungo termine quando parliamo di medio lungo termine parliamo di ventiquattro mesi dai ventiquattro mesi in su di dilazione dei pagamenti ehm è possibile prendere la polizza andare presso un istituto scontante eh quindi un cessionario e fondamentalmente scontare il credito ah ho capito quindi è un mix tra una storia di sconto e assicurativo perfetto assolutamente cioè la 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 diciamo la polizza assicurativa e propedeutica poi alla cessione prosoluto del credito sull'estero ok quindi qui nella slide voi vedete rappresentato in maniera schematica quello che è la struttura finanziaria e assicurativa di un'operazione di questo tipo ok quindi eh vi faccio un esempio molto concreto eh io eh Luca SRL eh produco eh macchinari per la lavorazione del vetro eh devo effettuare una una fornitura eh per un cliente brasiliano ipotizziamo eh io posso pensare eh il mio impianto per il mio macchinario per la lavorazione del vetro che vale un milione di euro adesso dico cifre a caso però un milione di euro di eh distribuirlo in questa maniera dico al mio buyer al mio cliente estero guarda io eh il il quindici per cento di un milione di euro il quindici per cento te lo faccio pagare in anticipo il restante 85 per cento lo puoi pagare in maniera dilazionata in cinque anni con rate semestrali ok eh ovviamente siccome io sono eh appunto un un un'impresa produttrice e quindi non un istituto finanziario non mi voglio tenere sulle spalle cinque anni di credito quindi io non voglio aspettare anche per questioni evidenti di di disponibilità di liquidità non voglio aspettare i cinque anni a questo punto posso prendere la polizza volturarla a un istituto bancario e fondamentalmente scontare prosoluto il credito quindi una volta che ho effettuato la fornitura ho effettuato l'esportazione volturo alla polizza rientro del mio credito assicurato e non penso più a nulla quindi esposta verso il cliente attraverso un meccanismo di garanzie bancarie incrociate immagino rimane direttamente sacce esatto quindi fondamentalmente c'è un passaggio di soggetto assicurato cioè se prima io impresa sono il soggetto assicurato nel momento in cui volturo la polizza il nuovo soggetto assicurato non sono più io ma sarà l'istituto bancario quindi questo è il diciamo la struttura della polizza questa polizza si chiama polizza lo leggete lì polizza credito fornitore perfetto quindi la posso applicare a tutta una serie di operazioni poi è chiaro che bisogna valutare caso per caso no per esempio perché alcuni paesi per esempio non prevedono la possibilità di volturare non sono cosiddetti non volturabili e quindi vuol dire che io quel tipo di meccanismo non lo posso seguire cioè potrei solo assicurare il credito ma sicuramente non scontarlo prosoluto anche perché la cessione prosoluto prevede che io impresa debba mh contrattualizzare come modalità di pagamento non più il bonifico che a questo punto è un mezzo di pagamento non scontabile ma debba utilizzare la cambiale internazionale quindi io poi con quel set di cambiali posso andare a scontare il il mio credito presso un istituto bancario o eventualmente presso la nostra sace factoring quindi il discorso è sicuramente è una struttura che certo in breve tempo è difficile da approfondire forse però ecco credetemi che è una struttura che sempre di più viene utilizzata dalla dalla piccola media impresa e poi ripeto a livello di negoziazione a livello di fase di offerta io posso già offrire un delle condizioni di vendita decisamente molto più vantaggiose rispetto alla 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 questo volevo portarti mi confermi che nel momento in cui uno può portare alla pollice assicurativa il prezzo del bene della fornitura ma può portare ed è ovviamente assicurabile anche il prezzo del bene più tutti i servizi compresi ovviamente quelli di trasporto quindi tutto lo sforzo che stiamo facendo di includere nel prezzo determinate parti del trasporto incluso quello marittimo è comunque rientrerebbe nella copertura sace dico bene vediamolo bene perché questa è una forza importante esatto io posso assicurare assicurare il anche l'intero valore del contratto perfetto che prevede anche tutta una serie di servizi tra cui anche il costo della polizza sace e il costo dell'accessione del credito quindi vuoi essere così maleducato da dirci qualche prezzo di massima abbiamo detto perché l'abbiamo ingolositi abbiamo detto che costa molto meno che il credito documentale che viaggia tra il 7 e il 10 per cento ti rispondo subito dicendo e non è una risposta di convenienza in questo momento sarebbe impossibile stimare un costo perché il costo è dettato da tutta una serie di variabili quali per esempio il valore da assicurare la durata del credito da assicurare è chiaro che un credito assicurato per cinque anni ha un costo è certo credito ad assicura assicurato per tre mesi portati portati il microfono sempre vicino alla bocca te lo devo chiedere grazie eccoci quindi dicevo sicuramente il valore da assicurare l'importo da assicurare l'altra variabile è quella legata alla durata del credito quindi alla durata della copertura assicurativa poi c'è una variabile paese perché chiaramente un credito brasile mi costerà di più di un credito germania o un credito svezia per fare con questo è importante sa c'è opera su tutti i paesi del mondo nessuno escluso forse escluso giusto quelli inseriti grazie grazie per la domanda assolutamente sa c'è opera in circa 190 paesi in tutto il mondo ci sono delle eccezioni ovviamente quindi quando parliamo di afghanistan quando parliamo di libia quando parliamo di sud 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 quando parliamo di siria o di corea del nord o di venezuela per citarne qualcuno sono paesi dove attualmente cuba ecco un altro attualmente sa c'è non l'opera esclusi questi paesi ripeto sono circa 188 190 paesi tutti gli altri in cui operiamo anche in geografie molto più difficili cioè le geografie paesi che vi ho citato adesso sono paesi dove per le ragioni sono più che lampanti no però ecco anche per esempio nel nel contesto eh sud americano piuttosto che nel contesto del del sud est asiatico o nel contesto eh dell'africa subsahariana eh o nord nord salariana noi comunque operiamo quindi eh l'invito è quando avete eh una necessità eh o un'offerta eh una richiesta chiedo scusa da parte di eh una una controparte estera magari nuova che non conoscete interpellateci perché noi possiamo dirvi se questa controparte è assicurabile oppure no perché l'ultimo elemento ovviamente che va a comporre il costo della polizza e poi chiaramente la eh diciamo il rating che il nostro istituto crediti il nostro ufficio crediti assegna al allo specifico cliente estero perché poi chiaramente ci deve essere anche una valutazione eh che avviene o su fonti informative o su richiesta di bilanci ufficiali ovviamente però deve avvenire comunque una valutazione preliminare di fattibilità tra l'altro questo tipo di cliente estero assolutamente cioè il nostro ufficio crediti deve poter verificare che il cliente sia assicurabile banalmente se eh il mio cliente potenziale cliente brasiliano eh ha dei procedimenti penali in corso piuttosto che eh è in perdita da quattro o cinque esercizi di bilancio capite bene che per noi è una controparte non assicurabile. I tempi cioè questa è una raccolta di informazioni che richiedi sui tempi fisiologici eh i tempi eh di di attacche questo lo dico nella con la speranza di 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 diciamo insegnare la pianificazione dei processi di vendita che tempi eh diciamo di valutazione e di validazione della pratica avete mediamente ecco certo certo allora eh rispondo subito eh per valutare un cliente estero eh indicativamente siamo tra i cinque e dieci giorni lavorativi alle volte riusciamo anche in due giorni però ci sono casi in cui arriviamo a dieci giorni questo si lega a un discorso più ampio che correttamente accennavi che quello della pianificazione cioè il suggerimento che mi sento di dare e fate già vostra se vi interessa ovviamente questa tipologia di soluzione ecco perché io dico prima ancora di stipulare le polizze è bene che le PMI sappiano che esistono questi strumenti quindi avere contezza dell'esistenza di Sace e di Simest quindi eh una volta che io so impresa esportatrice che ci sono questi strumenti posso già muovermi in anticipo e quindi nel momento in cui attivo il contatto e ho già un'idea di quello che può essere la fornitura che devo andare a effettuare telefono a Sace scrivo una mail a Sace oppure entro nel portale e richiedo la valutazione preliminare magari avviso al cliente di darmi tutta una serie di informazioni preventive mentre negoziamo così nel frattempo prima di chiudere il contratto ho già avviato un minimo di valutazione esatto esatto perché il 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 diciamo l'ottimo è poter chiudere il contratto già con il cliente validato già con la risposta di Sace e quindi già col col poter io esportatore mettere nero su bianco nel contratto le condizioni di pagamento sono queste a questi costi quindi sicuramente occorre diciamo agire prima di arrivare alla stipula del contratto senza ombra di dubbio agire prima che il credito sia sorto questo è logico perché le polizze non sono retrattive quindi noi non possiamo retroattivamente assicurare un credito che è già sorto però ecco prima di arrivare alla stipula finale del contratto è utile andare a valutare la l'assicurabilità dell'operazione tra l'altro ripeto la maggior parte di queste procedure sono tutte gestibili online quindi poi possiamo un attimo vedere quello che è il sito e quello che la diciamo il percorso per arrivare ad ottenere una valutazione preliminare una domanda che deriva da la platea platea gli amici che ci seguono molti dei quali sono effettivamente spedizionieri della zona qua di genova lombardi diciamo che lavorano con i porti di genova e savona e una domanda la domanda è questa sappiamo che molti di loro sono corrispondenti per la asincronia mettiamola così delle vendite all'estero e quindi molti sono corrispondenti di spedizionieri esteri quindi svolgono servizi di attività di spedizioni per conto di un mandante che alla fine è all'estero ora quasi questo strumento va benissimo quando si tratta di un bene accompagnato da una serie come abbiamo detto di servizi Sace assicura anche i servizi in quanto tali rivolti all'estero cioè uno spedizioniere italiano che facesse tutta un'opera di spedizione e di organizzazione di una spedizione e fattura a uno spedizioniere estero può rientrare nelle assicurazioni Sace è un puro diciamo subcontratta in Italia poi fattura a uno spedizioniere estero io ho anche un cargo owner a un cliente estero ma solo servizi di spedizione allora solo servizi di questo tipo difficilmente perché la polizza Sace va perfettamente a inquadrarsi sull'esportazione del bene quindi ci sono altri strumenti che può attivare nel momento in cui vendesse servizi ad alto valore aggiunto sull'estero o no su questo tipo di polizza no non su questa evidentemente va molto bene per l'impiantistica va molto bene per per i lavori fatti a commessa allora come servizi puri di spedizione onestamente è di difficile applicabilità sia questo che altri servizi quindi rimaniamo più che altro sull'ambito della fornitura di beni io esportatore ovviamente posso includere quel costo di dei servizi all'interno della mia della vendita e quindi rientrare nel concetto più generale lo spedizioniere che si assicura con Sace su una produzione non propria tendenzialmente non è un caso che vediamo molto spesso ecco e di difficile applicabilità il prodotto italiano venduto francofabbrica lo spedizioniere estero chiamano spedizioniere italiano per completare a quel punto la spedizione quindi tira la spedizione purtroppo è quello che abbiamo visto succedere spesso quindi la spedizione italiano si trova diciamo comandato su un bene italiano ma da un committente estero questo non sarebbe a rigor di logica diciamo assicurabile anche perché noi andiamo ad assicurare quello che è il contratto originario cioè il contratto di vendita il contratto di esportazione quindi io impresa produttrice che produco e concludo un contratto commerciale di esportazione direttamente con l'acquirente sì certo quindi io 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 impresa produttrice non vendo la mia merce allo spedizioniere no certo la vendo direttamente al buyer estero noi interveniamo su quel tipo di contratto chiarissimo chiarissimo quindi questo è la applica l'applicabilità dello strumento nel momento in cui non avete mai adesso scusa una cosa che abbiamo discusso prima lo dico per anche qua rendere dotti tutti di discussioni che abbiamo fatto voi sino ad oggi non vi siete mai posti il problema di misurare l'effettiva esportazione del bene in quanto tale lavorando sul contratto cioè ricorderai le prime discussioni che abbiamo avuto cioè discussioni siamo proattive tutto stiamo facendo un grosso sforzo per spingere l'impresa a includere la logistica nelle sue diciamo condizioni di vendita il controllo della parte la logistica importantissimo perché ho evidenza ho maggiore evidenza di quello che è il passaggio della mia dei miei beni prodotti quindi assolutamente però ecco nei documenti per l'accessibilità voi ad oggi la documentazione che attesta l'effettiva esportazione non non viene richiesta voi siete bene viene viene tendenzialmente richiesta dall'istituto scontante nel momento in cui perfetto c'è una cosa molto importante da dire assolutamente cedo il credito a quel punto l'istituto scontario quindi fondamentalmente il cessionario certo richiede il il certificato la prova di avvenuta esportazione di avvenuta consegna certo esattamente esattamente è doppiamente importante anche per questa formula che le imprese un certo tipo di documentazione di esportazione la tengano a proprie mani non siano potrete poi a elemosinarla dal dal compratore estero abbiamo consigliato a tutti di stare molto attenti perché comunque anche nella venda francofabbrica lo ripetiamo all'ennesima volta le procedure di esportazione vengono poi comunque eh dichiarate in capo alla ditta esportatrice italiana e soprattutto a quel punto lì come dire prendendo il peggio del peggio abbiamo sempre consigliato di andare almeno a eh configurare forme di consegna della merce franco terminal di esportazione o a bordo della nave in maniera tale da avere eh i documenti di avvenuta esportazione a proprie mani o condivisi al limite col compratore ma non dovesse non deve essere costretti magari dopo qualche mese a inseguire il cliente che magari è scomparso nel frattempo non è più cliente per richiedere documenti esposti cercare di avviare poi con grossa con difficoltà le pratiche di sconto della della presso la manca è una cosa che eh più più la suite documentale che accompagna l'esportazione rimane nell'esportatore più è facile non solo il confronto con dogana e guardia di finanza quando ce l'hai in casa che ti chiedono l'iva e di dimostrare diciamo come mai hai venduto sensiva ma anche quindi diciamolo chiaramente nei confronti delle procedure amministrative per quanto riguarda lo sconto sostanzialmente del credito certo ma questo anche laddove eh non vi fosse l'operazione di sconto perché io in presa posso anche decidere di assicurare la fornitura appunto eh anche perché posso decidere che il mio macchinario invece di cinque anni il buyer me lo debba ripagare in sei mesi e magari con rate trimestrali no quindi eh sì a quel punto per sei mesi posso farmi carico di attendere le rate quindi il rientro del credito senza andare ad attivare la cessione del credito quindi io posso anche solo assicurarmi tutta quella documentazione di cui parlavi e parlavamo poc'anzi è importante anche perché eh al di là della cessione del credito laddove si verificasse un sinistro quindi laddove si verificasse un mancato pagamento del credito da parte del del mio cliente estero a quel punto devo fornire a Sace tutta la documentazione che attesta che quanto io ho dichiarato in polizza effettivamente è avvenuto è avvenuto chiaro quindi al di là dello sconto è importante a prescindere avere diciamo contezza di quello che è tutto il set documentale e quindi avere evidenza anche di quelli che sono i come dire le i passaggi legati ai termini di resa e così via per cui ecco è importante a prescindere sconto o non sconto ti faccio un'ultima domanda e poi chiudiamo che vedo che giustamente Cristina si fa capolino faccio capolino per l'ultima a limite la lascio a una prossima l'affitto di beni strumentali per l'esercizio di mezzi di trasporto dovessi comprare in Italia due locomotive e affittarle a un operatore estero è compreso il contratto di affitto di vendita di vendita di beni sì guardate appunto io avrei tanto altro da approfondire da dire però purtroppo il tempo era quello che era per cui ecco spero di essere riuscito a darvi qualche qualche primo spunto di riflessione mi fa piacere se in una seconda fase anche diretta appunto impresa con noi o appunto tramite Cisco ci potessimo trovare un momento per approfondire la natura del servizio e tutti gli altri servizi io mi sentirei di dire una cosa Luca che il 10 di novembre avremo avremo il seminario sui pagamenti internazionali e ti chiederai a questo punto di completare utilmente il tuo intervento con un intervento specialistico nel seminario specifico sui pagamenti internazionali direi che la liaison sarebbe perfetta assolutamente assolutamente sì insomma un qualche cosa che possiamo 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 pianificare ehm io comunque come vedete ho lasciato ho scritto i riferimenti nei riferimenti diretti eh alla alla fine della presentazione laddove ci siano necessità ecco eh naturalmente potete utilizzarli eh quando quando e come meglio credete ecco eh a questo punto non credo neanche ci sia il tempo di 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 vedere il sito eh magari ecco in una prossima in una prossima occasione può essere utile eh il sito comunque www.sace.it o sacesimest.it eh suggerirei sicuramente per chi ha voglia e tempo di iniziare a dare un'occhiata di mh a quella che è diciamola il panorama dei servizi legati e connessi all'export e non solo grazie grazie a tutti grazie grazie a lei grazie volevo dire che come promossi taglio ovviamente eh collaboriamo sotto tanti aspetti con eh sace simest e eh ci sono degli altri webinar che vedono coinvolta eh sace eh nel nostro palinsesto quindi invito comunque ad approfondire anche attraverso l'altra programmazione diciamo che eh eh è già in atto eh ringrazio tutti ringrazio Stefano Mangia ringrazio Luca Labanga per aver partecipato a questa puntata diciamo così e con Massimiliano Giglio e Silvio Ferrando vi diamo appuntamento al 22 ottobre con il prossimo eh prima no infatti arrivare adesso lo dicevo dicevo col 22 ottobre con il prossimo appuntamento del miglio mancante ma prima eh con il quattro che c'è la presentazione eh importante che Massimiliano Giglio ci ha già lanciato ad inizio eh ad inizio diciamo webinar ricordo a tutti che eh tutta la documentazione mh esposta oggi è pubblicata vi arriverà il link da cui scaricarlo e mh e niente direi che possiamo salutarci e ringrazio ancora grazie grazie buonasera buonasera a tutti grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti